La nostra è un'azienda che negli anni 80 è nata con mio nonno, dove aveva una piccola superficie e mettevamo peperoni. Da lì, piano piano, col boom economico per quanto riguarda l'orticoltura di protetta qui nel nostro areale, ci siamo sviluppati. Tutto questo grazie anche all'unione della nostra famiglia, perché sono io che sono l'ultimo arrivato, ma la mia famiglia, quindi i miei zii con mio padre, hanno fatto crescere negli ultimi vent'anni questa bella realtà che ha portato fino a raggiungere i 100 ettari di superficie e avere all'incirca anche un 300 dipendenti. Quello che mi spinge e ci spinge come azienda a collaborare con la Valagro è questo rapporto che si è venuto a creare con il tempo, di fiducia. Non sono dei venditori, nel senso che quando abbiamo bisogno, se c'è bisogno, li chiamiamo, ci danno un consiglio tecnico, ma senza obbligarci all'acquisto, senza imporci certi prodotti. Sono da questo punto di vista veramente, possiamo definirli, dei fratelli maggiori. Valagro ci aiuta tanto, anche nel rapporto che si viene a creare fra l'azienda e Valagro, sia in termini di qualità, ma anche di salubrità dei prodotti. E soprattutto anche per quanto riguarda il benessere, diciamo così, il benessere del consumatore, nel senso che sempre più si sta spingendo verso un prodotto sano. Grazie a tutti!